Provate voi a spostare miele. Sono queste le parole di Paola che fa fatica a parlare alle telecamere e ci racconta una delle storie dei 40 cani che dovranno lasciare la struttura di Via Raiale. Sequestrato dalla Asli insieme ad altri pitbull come zucchero e cannella, ho accolto miele qua. È un'irregolarità? Se lo chiede, anzi lo chiede a noi giornalisti, il presidente della Lega del Cane della sezione di Pescara, ma davanti a una vita salvata, cos'è esattamente un'irregolarità? E chiude? Provate a immaginare cosa possa capitare nel cervello di un cane legato H24 a una corda cortissima. Miele non è insieme agli altri, è qui con noi perché a miele un po' di mesi fa ha iniziato a soffrire di crisi epilettiche, ha avuto bisogno di una risonanza magnetica, di un'attacca e di un ricovero. È costato tantissimo, noi abbiamo potuto affrontare la spesa in una delle migliori cliniche d'Italia, Roma Sud, appunto nel Lazio. Abbiamo potuto pagare le spese di miele perché i cittadini di Pescara sono sempre molto generosi con noi, quando lanciamo un SOS la città di Pescara risponde, di questo sono molto felice. Miele non è operabile perché ormai è un cane di una certa età, ha un tumore al cervello grande come un'arancia e non vogliamo che finisca i suoi giorni in un altro canile che non sia questo. E si interrompe la voce. Oggi è iniziato qualche trasferimento al Dog Village di Montesilvano, questo fa sapere Nicoletta D'Inisio, assessore al mondo animale. Non solo Caos ma anche tutti gli altri cani avranno presso un'altra sistemazione. Intanto fuori dal canile continua la battaglia dei documenti. Dalla relazione delle guardie zoofile emergerebbero alcune criticità nella struttura La RUPE di Civitella a Casanova. Prima tra tutte l'assenza della recinzione perimetrale e le coperture dei box. Nel canile di Verayali invece mancano alcuni sifoni per la rete fognare e si dovrebbero semmai rinforzare le recinzioni già esistenti. In ogni caso l'ultima parola spetterà alla Asli di Pescara.